Musica Al Baggio Park, buonasera da Gianmarco Cervi Terza partita della prima giornata dell'altre legge Dominos Legends, Milano e Ivenza Contendersi tre punti al centro del campo Squadra è già disposta in ordine del direttore di gara, signor Scuteri Applausi convenevoli Intanto andiamo a vedere i due schieramenti Le due rose delle due squadre Dominos Legends con Luzardi, Bellomo, Martino, Di Miccoli, Frombola, Crescenzi, Buonasera, Crucito, Cavallo e Menoni Risponde Milano Ivenza con Nocco, Patella, Trami, Succhi, Pinti, Tanzi, Monno, Agag, Di Gregorio, Giuliano e Marchi Tutto è pronto per cominciare Squadra dei giocatori che stanno prendendo le loro posizioni all'interno del campo Milano Ivenza che attaccherà da sinistra a destra Dall'altra parte ovviamente Dominos Legends Tutto è pronto a partire, arriva al fischio il direttore di gara Let's go, partiti Calcio di punizione per il Milano Ivenza La deviazione sulla battuta da parte di Gregorio Colpo di testa e palla alta, grande occasione per Patella Che ha messo alto sul corner dalla destra Calcio d'ango per il Milano Ivenza, ancora Agag, parte il cross, il colpo di testa Pallone che sfiora il palo Pallone dentro, la rovesciata! E gol fantastico! Da parte di Menoni che porta avanti il Dominos Legends Gol meraviglioso! Si è coordinato perfettamente in area piccola E ha battuto il portiere del serio con una giocata fantastica Da figurine panini, dritto in top 5 Questo gol meraviglioso che porta avanti il Dominos Attenzione, c'è subito il gol del pareggio del Milano Ivenza Con Marchi Tutto solo sul secondo palo Col piattone Batte l'estrema difensore avversario Subito il gol dell'1 Durato pochissimo il vantaggio del Dominos Legends Neanche un minuto Subito 1-1, tutto da rifare Buona la sua posizione ancora di Monno Si chiude il triangolo La conclusione sul fondo da parte di Occhi Pinti Grande occasione, grande azione sulla sinistra Alla parte del Milano Ivens Alla fine Occhi Pinti è concluso fuori Poi pallone però ancora una volta perso Giuliano dentro per Di Gregorio Tutto solo Di Gregorio Pallone largo Che occasione per andare in vantaggio per il Milano Ivens Sprega Di Gregorio Gran giocata di Giuliano Giuliano, Giuliano, Giuliano Giuliano Ma che gol ha fatto Giuliano Tutto troppo bello Doppio controllo anche con un mezzo sombrero Poi il gioco di gambe alla fine freddissimo Davanti l'estremo difensore avversario Vantaggio Milano Ivens allo scadere Super gol di Giuliano Fantastico 2-1 Stato di Gregorio Scodella dentro per Giuliano Al volo 1-2 Terrificante di Giuliano Coordinazione perfetta Destro secco sul primo palo Forse poteva fare di più L'estremo difensore avversario Ma è arrivato il gol del 3-1 La doppietta fantastica di Giuliano Due gol meravigliosi 3-1 Milano Ivens Che chiude così il primo tempo Con il risultato in ghiaccio Arriva il duplice fischio Dal direttore di gara Che manda le squadre a rifiatare Per qualche minuto Super spot Si riparte con il secondo tempo Con il Milano Ivens In possesso di palla Monno Posizione di sparo Monno Calcia con l'esterno Sinistro Il palo ancora Monno E la palla in rete 4-1 Grande percussione di Monno Prima il palo con la punta E poi Il tapin decisivo Per il gol del 4-1 di Monno Milano Ivens Prova a prendere il largo C'è Agag Però in posizione di sparo Si coordina Calcia Agag Respinge bene Lussardi Deve ricominciare Cavallo Lo fa adesso Servito Crescenzi Contro di Crescenzi Buono di Crescenzi Col mancino Palla alta Buona azione Il Dominus Ligian Che si è riaffacciato Nella metacampo Del Milano Ivens Ma Crescenzi Ha calciato alto Buona azione offensiva Comunque Poi sbaglia E Marchi Viene falciato Da Martino Che chiede subito scusa Calcio di punizione Per Dominus Ligian Pallone dentro Per La conclusione Con il mancino Attentato da Menoni Buona risposta di Nocco Pallone scodelato Di Gregorio Si coordina Al volo a Patella Gran gol di Patella Al volo Direttamente Dal corner Battuto da Di Gregorio Gran bel gol Di Patella 5-1 Partita di Re Ampiamente chiusa A questo punto Il nuovo per Monno Al centro Per la conclusione Di Giuliano E la grandissima risposta Da parte di Lussardi Molto bravo A sapare La porta dei suoi Poi Aga Controlla Si gira Ancora Lussardi Pallone rimane lì Ancora Lussardi Due volte Poi sbaglia di Micoli Il Pallone arriva Giuliano 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 6-1 Milano Ivens Tutto troppo facile per Giuliano Questa volta Il pallone passa tra le gambe Di Lussardi Parte Aga Col destro E palla in rete 7-1 Destro secco di Aga Adesso è un tiro al bersaglio In realtà per il Milano Ivens Fa un po' quello che vuole Patella che calcia al volo Non la tiene Lussardi Anzi si Gran prata di Lussardi E poi Giuliano Chiudo in calcio d'angolo Arriva il triplice fischio Che il signor Scuteri Finisce così Finisce 7-1 Per Milano Ivens Che stravince Alla Sua prima partita stagionale Contro Dominos Legions Che avrà sicuramente Modo di rifarsi Prossimamente Super spot Che avrà sicuramente